allora questa mattina fatevi spendere 10 15 minuti per darvi qualche flash sul sistema github che usiamo normalmente in modo che anche voi lo possiate usare tranquillamente diciamo che la complessità generale del sistema github è abbastanza elevata quindi cominceremo con le cose più semplici quelle essenziali poi chi vorrà approfondire ovviamente avrà spazio per poterlo fare di cosa stiamo parlando stiamo parlando di sistemi che aiutino a gestire le versioni del software di un software visto che il software non si crea con la bacchetta magica e non viene diciamo così istantaneamente creato ma richiede giorni di lavoro per raggiungere vari pezzettini e o richiede un team di persone che collaborino di questo software ci sarà un'evoluzione giorno per giorno ora per ora e su scala di tempo più grandi versione su versione quindi la versione 1 di un software poi quando ho finito di lasciare completare testare rilasciare la versione 1 comincio a lavorare sulla versione 2 quindi devo tenere traccia di tutto ciò che sto facendo allora per questo sono nati ma già da 30 anni varie tipologie di strumenti che permettono ai programmatori proprio di tenere traccia delle di controllare le versioni del proprio software c'è stata un'evoluzione da sistemi locali verso sistemi più distribuiti ma ovviamente noi ci focalizziamo solamente su quelli recenti allora il concetto base qual è è che tu mentre lavori stai lavorando su un albero di cartelle di file diciamo un progetto eclipse per fare il nostro caso specifico e lì dentro stai editando dei file aggiungi cancelli modifichi eccetera tutto ciò è la tua cosiddetta copia di lavoro cioè noi abbiamo una copia del progetto su cui stiamo lavorando se non usassimo un sistema di controllo delle versioni software questa sarebbe l'unica cosa che abbiamo una copia di lavoro dei file dopodiché se ieri c'era una cosa che funzionava poi ho modificato qualcosa e adesso non funziona più magari mi interesserebbe andare a controllare com'era ieri cosa ho modificato cosa ho toccato ma se ho una copia sola non lo posso fare allora i sistemi di controllo delle versioni ciò che mi danno è la possibilità di salvare una copia di tutti gli stati intermedi della mia copia di lavoro in quello che chiamiamo repository repository è diciamo un database, un archivio che contiene tutte le copie di tutti i file che si sono succedute tutte le modifiche che si sono succedute dall'inizio del progetto in avanti beh ovviamente quelle che io ho deciso di salvare così in ogni momento posso tornare indietro e vedere cosa era stato fatto, cosa è stato modificato posso magari testare due versioni diverse dello stesso programma no? perché magari la voglio ottimizzare, già funziona ma voglio ottimizzare una parte però la voglio fare separatamente per poi dire se poi funziona lo sostituisco al primo se non funziona butto via tutto quindi devo poter mantenere più copie di lavoro diverse salvate e poter passare da una all'altra questo è il lavoro che fa un repository un grosso archivio in cui ci sono tutte le versioni del software che ho creato di cui una, una di queste versioni è la mia versione di lavoro, la mia copia di lavoro e tutte le altre sono comunque archiviate lì quindi io lavoro normalmente nella copia di lavoro, nella working copy e di tanto in tanto salvo il mio lavoro nell'archivio, nel repository con un'operazione che viene detta in gergo di commit quindi nel mio progetto Eclipse come prima cosa dovrò creare un repository associato al progetto che inizialmente sarà vuoto e poi man mano che vado avanti faccio dei commit, dei salvataggi dello stato attuale del progetto, della working copy, all'interno dell'archivio ogni commit avrà un codice univoco che permette di recuperarlo in futuro e quindi avrò la storia di tutte le modifiche l'azione di commit è un'azione esplicita, devo farla io, non è un salvataggio automatico perché io farò un commit solamente quando il programma funziona corretto se non lo faccio a metà di una riga quando c'è un errore di sintassi ho dimenticato il punto di riga lo farò in certi momenti in cui dico va bene adesso qua salvo lo stato faccio una fotografia dello stato dell'area di lavoro per poi andare avanti in modo che se capita qualcosa posso tornare indietro se sono arrivato a quel punto questo funziona tranquillamente anche se io lavoro solo sul mio computer non ho bisogno di nulla il repository è un archivio, una cartella che nel caso di git si chiama .git che viene salvata a fianco della mia coppia di lavoro ovviamente è possibile anche l'operazione inversa che si chiama di update in cui vado a estrarre dal repository una coppia di lavoro può essere una coppia precedente, può essere una coppia parallela perché magari sto sviluppando su più rami diversi quindi voglio passare dal ramo di produzione da quello di sperimentazione e quindi in quel momento vado a pescare dal repository una certa coppia la porto nell'area di lavoro e da lì in avanti lavorerò su quella coppia quando farò un commit andrò ad aggiornare nuovamente i repository nel ramo di lavoro su cui lavoravo se sono da solo questa operazione di update è relativamente rara perché tanto su quei repository ci vado solo io ho bisogno solamente se appunto o lavoro su più rami oppure devo tornare indietro perché ho sbagliato qualcosa essenzialmente quindi abbiamo questi due concetti base coppia di lavoro, repository commit e update sono le primitive di trasferimento di dati tra queste due questo però su un singolo computer cosa capita se abbiamo più persone che lavorano oppure la stessa persona che può lavorare da più posti diversi da più computer diversi allora a questo punto dobbiamo avere un luogo comune in cui poter condividere repository allora alcuni sistemi di version control system iniziali lavoravano con un repository centralizzato che aveva il vantaggio che era più semplice come schema come architettura ma lo svantaggio che per poter fare commit o update dovevi sempre essere collegato a internet innanzitutto perché repository tu avevi la working copy sul tuo computer e repository era con server da qualche parte git è un pochino più complesso di così in git ogni computer ha la sua working copy e il suo repository in più possiamo avere un repository esterno un server esterno su cui ci sia solo la copia dei repository quindi noi possiamo lavorare tranquillamente sul nostro computer salvare eccetera poi di tanto in tanto decidiamo di sincronizzare la nostra copia privata dei repository con la copia diciamo condivisa quindi ci sono altre due operazioni di trasferimento che prendono il nome di push e pull l'operazione di push prende le ultime modifiche del mio repository locale e le manda le pusha le manda verso il repository condiviso aggiorna il repository condiviso e quindi è come io lavoravo sulla versione che so avevo la versione 1 poi faccio la versione 2, 3, 4, 5, 6 sul mio computer sul mio repository locale poi faccio un push e le versioni dalle 2 alle 6 vengono spedite al server centrale e da quel momento altre persone potranno vederle e vedere le mie modifiche e lavorarci come fanno altre persone a vedere le mie modifiche e lavorarci? con l'operazione inversa di pull in cui il pull vado ad aggiornare la mia copia locale rispetto alle modifiche che ci sono state sulla copia remota e quindi più persone possono lavorare insieme ah io ho finito una cosa va bene faccio push così tu te la puoi scaricare vederla e lavorarci questa è la versione semplice abbiamo tre luoghi in cui il nostro sorgente può essere la copia di lavoro che è l'unico in cui ci possiamo lavorare la possiamo modificare il repository locale e il repository remoto il repository remoto può essere condivido da più persone adesso diciamo questa è la versione semplice la versione complicata è cosa succede in caso di conflitti cioè se ho veramente due persone che stanno lavorando sulla stessa copia di lavoro fanno due commit uno sulla funzione uno sull'altra funzione quando è ora di fare push cosa succede? che bisogna mettere insieme le modifiche? allora qui nascono le complicazioni perché tu non puoi fare push su un repository che sia andato più avanti rispetto all'ultima volta che hai fatto pull e quindi devi inizialmente unire le modifiche sul tuo repository locale e poi puoi fare il push qui si complicano le cose ma per il momento non ci serve perché noi è vero che lavoriamo in tanti ma ognuno lavora sul suo progetto lavora su una sua copia del suo progetto ok? quindi noi lavoriamo con questo strumento che si chiama Git che lavora con questo modello distribuito è un programma a sé stante che potete installare sul vostro computer ma all'interno di Eclipse è già integrato dentro quindi non abbiamo in pratica bisogno di installare nulla in più se non vogliamo operare con i repository dall'esterno di Eclipse ma sono sempre file non c'è nulla di magico in Eclipse e vabbè il Git è di fatto lo standard mondiale di tutto ma la facciamo breve e per quanto riguarda il repository condiviso cosa posso fare? beh devo appoggiarmi su un servizio esistente o me lo tiro su io cioè ci sono i prodotti a pagamento open source che permettono di creare un server di questo genere a casa tua cioè nella tua azienda oppure usi uno dei tanti servizi cloud diciamo così che sono stati messi costruiti negli anni messi a disposizione e tra i quali il più importante o meglio il più conosciuto il più diffuso prende il nome di GitHub che è quello che useremo noi vabbè qui puoi fare poi su GitHub puoi fare anche altre cose puoi pubblicarti un piccolo sito web collegato al progetto ma come dicevo oggi voglio concentrarmi sulle cose essenziali per poter lavorare allora come funzionano queste cose? operativamente io vi racconto due flussi di lavoro due workflow che poi potete usare voi che uso anch'io sono quelli che ci servono in questo corso allora il primo flusso di lavoro è quando io voglio creare un nuovo progetto da zero e condividerlo con altri ok? allora questi sono i passi essenziali creo un nuovo progetto normalmente come faccio normalmente in Eclipse poi da Eclipse vi dico di creare un repository locale associato al progetto e poi faccio push del repository locale sul repository remoto ovviamente questo repository remoto dovrò averlo creato sul sito di destinazione per poter fare push devo fare push verso qualche cosa che esiste ok? quindi come adesso qui ci sono le videate ma lo facciamo diciamo così dal vivo quindi immaginiamo di avere fatemi chiudere tutto poi ci ritorniamo un progetto nuovo che vogliamo creare ok? allora io mi creo un nuovo progetto progetto java normale ma non ci importa per ora cosa ci stiamo scrivendo dentro lo chiamo prova git vabbè questo è un normalissimo progetto java progra git anziché prova fa lo stesso ok? dentro il quale posso creare un nuovo file java che ne so una nuova classe prova che è dentro il main e dentro ci faccio un bellissimo system.out .println diciamo bellissimo programma vabbè questo è il mio programma un progetto eclipse così sto lavorando diciamo nella copia di lavoro tecnicamente neppure ancora perché non ho ancora un repository associato quindi non la potrei chiamare a copia di lavoro creato un progetto voglio condividere il progetto quindi passo 1 creo il repository locale dai clips tutti i comandi relativi al controllo delle versioni stanno sotto un menu che si chiama team quindi progetto tasto destro team dentro team c'è tutto ciò che ci serve all'inizio vedete che il menu team è abbastanza povero perché dice che cosa vuoi fare come team che per ora non c'è un repository associato la prima cosa che puoi fare è condividere il progetto condividi il progetto predisponi per condividere il progetto nella terminologia di git vuol dire crea un repository locale faccio share project e lui mi dice bene ma tu dove lo vuoi salvare questo progetto questo repository cioè il progetto sta nel workspace di eclipse e il repository git dove lo vuoi salvare su che disco su che cartella eccetera eccetera allora potete metterlo dove volete potete scegliere un posto nel vostro computer in cui salvare i vari repository un modo è quello di crearlo dentro il progetto stesso quindi dentro il vostro progetto eclipse avrete una cartella che si chiama punto git che contiene sta roba per farlo bisogna cliccare tre volte usa creare repository dentro il progetto quindi se non lo faccio mi chiede dove voglio salvare su disco io dico no lo voglio dentro il progetto dentro questo progetto secondo click crealo per davvero terzo click finish poi eclipse un po' non è tanto contento se gli creiamo repository dentro perché loro dicono che non è bello non è buono ma funziona bene quindi finish non ho fatto nulla ma ciò che si vede è che a fianco del nome del progetto c'è qualche cosa tra parentesi quadra che indica il nome dei repository e è comparso a fianco dell'icona non si vede molto perché è un po' piccola un piccolo bidoncino giallo che rappresenta il repository dice a questo progetto è associato un repository cosa posso fare su questo progetto? posso fare adesso vedete che il menu team si è popolato posso salvare questa versione quindi posso perché finora il repository l'ho creato ma è vuoto ok? i miei file sono ancora nel working space ho creato un repository vuoto che contiene nessuna copia del mio programma voglio fare una prima copia allora l'operazione da fare è un commit il primo commit del progetto vedete che la prima voce qua sopra è commit qui questo bellissimo programma ho deciso di salvarlo nel repository e qua sotto ho la finestra che si chiama git staging che mi permette di fare commit guardiamo subito in basso a destra ci sono due bottoni uno si chiama commit e l'altro si chiama commit e push quindi mi sta chiedendo vuoi salvarlo solo sul tuo repository locale o vuoi anche istantaneamente contestualmente salvarlo sul repository remoto sta a me per ora magari lo salvo solo in locale il push lo farò dopo se sono solo modifiche stupide è inutile che le vada a mandare però non cambia nulla di che cosa è composto un commit? di due ingredienti i file cambiati i file modificati e un commento non vi lascio a fare un commit finché non scrivete un commento un messaggio perché? cosa è stato cambiato? cosa hai fatto? perché se no avere 12.000 liste di modifiche senza nessun commento a fianco dici ma qual è quella giusta? quindi un commento obbligatorio diciamo versione iniziale del programma e che cosa contiene? allora qui abbiamo a sinistra due aree che ci riassumono i cambiamenti che sono avvenuti nel progetto rispetto all'ultimo commit e abbiamo due finestre uno dice cambiamenti non staged non ancora pianificati e sotto cambiamenti staged pronti per il commit perché noi potremmo decidere quando facciamo commit di salvare tutte le modifiche oppure magari alcuni file escluderli perché magari non sono ancora pronti vogliamo solo fare commit di un sotto insieme dei file sta a noi adesso se clicca su commit non farei commit di niente perché di stage non c'è nulla per mettere tutto possiamo cliccare su questo doppio più verde qua più più che copia tutto da sopra sotto oppure facciamo trascina drag and drop quindi ciò di cui faccio il commit è l'insieme di file che sono elencati in questa finestrina degli stage changes cioè una cosiddetta staging area che è un'area tra diciamo concettualmente la metastrada tra lo spazio di lavoro e i repository che tiene in caldo i file appena prima di un commit per ora tutti questi cambiamenti sono cambiamenti di tipo aggiunta vedete che a fianco di nessuno di questi c'è un più verde vuol dire che il file stiamo aggiungendolo il commit fatto qui c'è una parola master che è in git possiamo lavorare su più rami di lavoro indipendenti paralleli il ramo principale si chiama master quindi ogni progetto ha sempre un ramo master e poi se vogliamo possiamo carare degli altri i rami si chiamano branch ma non voglio oggi entrare nei branch ok a questo punto diciamo che il nostro programma lo vogliamo rendere più internazionale e qui anziché ciao scriviamo welcome ok allora cosa è successo scrivendo welcome è successo che a fianco del nome del file è comparso un segno di maggiore vedete vicino a prova.java c'è un segno lino maggiore che prima non c'era che indica questo file è stato modificato nella staging area è comparso quel file lì dicendo anche questo è stato modificato noi magari lavoriamo questo non lo vediamo però man mano che modifichiamo il progetto il progetto git tiene traccia delle differenze tra l'ultimo commit e l'area di lavoro quindi se adesso voglio salvare questo farò di nuovo un commit che mi riporta di nuovo questa finestra ovviamente in cui questo file è indicato non più con un più verde ma con un asterisco nero che sta per indicare modifica ok adesso l'ho fatto versione internazionale commit e qui posso lavorare normalmente voi dite non si vede cosa ho fatto no non si vede cosa ho fatto perché per vedere cosa ho fatto dovrei andare sempre dentro team in una voce che si chiama history mostra la storia del progetto che mi fa vedere che questo progetto è composto di due commit uno si chiama versione iniziale l'altro si chiama versione internazionale l'autore l'ora e questa etichetta verde master dice dov'è il master quindi qual è il punto di arrivo il più recente di tutti i commit che ho e in ciascun commit ci sono i file che ho salvato e posso anche vedere se ci clicco sopra la singola versione potrei anche chiedere il confronto con le versioni precedenti e mi mette a confronto adesso qua le finestre cominciano a diventare un po' complicate i due file evidenziandomi le differenze oppure posso confrontare con l'eventuale versione del working space eccetera eccetera quindi posso andare a interrogare il repository per capire che cosa ho fatto nelle varie versioni ok adesso però siamo pronti per condividere il progetto con tutti allora per farlo devo quindi fare il primo push per fare il primo push devo andare su GitHub nella mia area personale e mi creo un progetto questo lo potete fare benissimo anche voi nell'area di TDP 2018 no perché non avete accesso in scrittura ma nella vostra area potete creare tutti i progetti che volete quindi io sono nella mia area e creo un nuovo repository c'è il bottone verde qua oppure qua anche sul più nuovo repository nuovo repository che magari chiamo come ho chiamato il progetto prova git esempio di git e schiaccio clicco su creare repository attenzione a non creare dice ma mettici un readme dentro non mettetelo a noi serve un progetto un repository nuovo vergine perché ci dobbiamo fare push di quello nostro ok se ci fosse già un file dentro il push non riuscirebbe perché se no stai facendo un push su un repository che contiene già qualcosa e quindi prima unisci le variazioni quindi lo creiamo nudo così a questo punto github sono su github mi dice ah bello hai fatto un progetto ma non contiene niente quindi devi agganciarti il progetto a una tua cartella di lavoro a un repository locale oppure fai un push di un repository che già esiste noi ce l'abbiamo qui dice dalla linea di comando ma noi lo facciamo direttamente dai clips come faccio a farlo? beh devo prendermi l'identificativo l'indirizzo di questo repository quindi io mi prendo questo repository copia che è vuoto torno su eclipse dove ho un repository locale che non è vuoto perché contiene due commit e sempre dal menu team faccio push avrei potuto anche fare commit and push per fare le due operazioni in una volta sola però adesso le facciamo una per separate per quindi vedete dunque team push push branch master manda al repository centralizzato il master adesso lui crea una fine la prima volta devo dire dove sta questo repository remoto le volte successive lo saprà già quindi quando faccio push lo manda immediatamente la prima volta mi dirà dov'è lui mi ha già preso eclipse prende già in automatica ciò che c'è negli appunti nella clipboard quindi ho fatto copia e quindi qua lo sa già mi inserisce già non devo fare incolla a mano qua e predispone già tutto la prima volta che lo userete vi chiederà anche eclipse vi chiederà di dirgli la vostra utente password di github perché ovviamente deve avere accesso a github per poter salvare qui ce l'ha già memorizzato perché l'ho già fatto più volte se volete eclipse lo può memorizzare al suo interno quindi l'indirizzo del progetto le credenziali di accesso a github vado avanti lui mi chiede che cosa vuoi mandare voglio mandare il master configura questo significa metti in relazione il repository locale con quello remoto in modo che push e pull avvengano su tutti i branch tra loro due si va bene qui mi dice sto per fare push di questa roba si va bene per la terza volta lui pensa un po' vedete qua sotto pushed fatto l'ha pushato come faccio si è sicuro che l'abbia inviato riaggiorno questa pagina e vedo che c'è il mio programma il mio progetto se guardo i commit sono i due che ho fatto e se guardo i sorgenti trovo il mio il mio codice ok quindi a questo punto questo progetto voi lo potete benissimo vedere usare potrete adesso vediamo secondo workflow scaricarlo e modificarlo il problema è che non potete usare questo repository per lavorare sul vostro progetto perché? perché questo è mio non potete fare push sul mio repository potete fare push solamente sui repository che possedete di cui avete il diritto d'accesso quindi o vi autorizzo magari creiamo un repository condiviso per fare un lavoro allora ci sono un certo numero di utenti autorizzati e loro possono far push ma non chiunque chiunque può vedere il progetto ma non modificarlo allora per questa seconda parte che è la parte che ci interessa anche il laboratorio come faccio? lavorare su un progetto che esiste già lavorare su un progetto che esiste già ad esempio quelli del laboratorio pensate e cominciamo avvicinarci all'esercizio di oggi io per oggi avevo preparato un repository che conteneva il testo di un esercizio che volevo fare insieme a voi adesso dimentichiamo per un attimo il fatto che io qua posso scrivere perché in questa organizzazione TDP 2018 ho i permessi di scrittura facciamo finta che non lo possa fare che sia uno di voi e che voglia lavorare in questo progetto allora il progetto esiste ma come prima cosa me lo devo copiare in un repository al quale abbia accesso quindi prima cosa mi devo creare un repository mio con una copia di quel progetto repository su github remoto e poi secondo passaggio devo prendere quel repository remoto e farmene una copia sul mio computer locale avevamo detto che la copia dal remoto al locale si chiamava pool in realtà la prima volta che lo faccio non è un pool ma è un clone il nome che viene dato per la prima creazione di un repository locale quindi per far questo chiudiamo questo progetto che ci è servito tanto ma adesso non ci serve più e fingiamo di voler lavorare su questo esercizio allora per farlo la prima cosa dicevo devo farmene una coppia in un repository su cui posso lavorare questa operazione è un'operazione che si fa direttamente su github che si chiama fork biforca il progetto e fanno una coppia nella mia area personale qui sono tutte le aree a cui io ho accesso voi all'inizio ne avrete meno ma sicuramente avrete la vostra quindi sono su un progetto di TDP faccio fork e dove vuoi forcarlo nella mia area personale lui ci chiede di pensare un attimo e ci ha fatto un progetto che è uguale identico a quello di prima ma nella mia area personale non è più sotto TDP ma è sotto Fulvio Corno forked from TDP indovina numero quindi a questo punto ho un progetto nella mia area su cui posso lavorare questo progetto adesso è minimo non contiene solamente un readme ma forse un progetto enorme va bene ci posso lavorare l'ho copiato perché il progetto era pubblico era visibile a tutti adesso per lavorarci devo ovviamente importarmelo in Eclipse quindi vado in Eclipse come faccio? importo importa in Eclipse un progetto che è altrove nel menu importa quindi file import in Eclipse c'è una voce git importa un progetto da git quindi anziché fare new project anziché creare un progetto locale lo creo importandolo clonandolo da un repository git come sempre come sempre mi serve l'indirizzo che trovo qua del progetto non è questo l'indirizzo questo è l'indirizzo della pagina in cui il progetto è pubblicato ma per fare clone c'è il sito qua per fare clone devi usare questo indirizzo qua copia e quindi in Eclipse vado avanti sono importa progetto lui mi dice dove lo importi da un repository che è già in locale oppure da un indirizzo che c'è su internet da un indirizzo qui come al solito si è preso l'indirizzo si è preso le credenziali sono tutto a posto vado avanti mi dice che in quel progetto c'è un branch che si chiama master se fossero più branch io posso scegliere di quali voglio fare una copia più rami e dà un nome al repository remoto ecco come convenzione di git il repository remoto si chiama origin possiamo dare i nomi che vogliamo per convenzione origin è quello remoto qui abbiamo il local e l'origin lui va avanti adesso sta scaricando i file e poi Eclipse guarda ma dentro questi file che ho scaricato c'è per caso un progetto Java un progetto Eclipse si e allora importalo nel workspace perché altrimenti l'avrebbe semplicemente scaricato un po' di file e basta non te l'avrebbe lasciato non te l'avrebbe fatti vedere come progetto e adesso non me lo fa fare maledizione perché ho già un progetto che si chiama in quel modo linea nel workspace quindi altrimenti il prossimo passaggio sarebbe stato la creazione di un progetto io mi sono dimenticato di questo dettaglio per cui arrivo fino a qua non riesco a fare l'ultimo passo insieme a voi perché dice guarda io sto per importare un progetto che si chiama indovina numero ma nel workspace c'è già uno che si chiama così Eclipse è scemo e non ti permette di avere due progetti con lo stesso nome altrimenti saranno proprio l'ultimo passo cliccando su finish avrei il repository locale e il progetto un progetto nuovo qua adesso poi potete far finta di nulla e vedere che fingere che sia questo che in realtà c'era già ok? basta una volta che avete così siamo nella situazione di prima abbiamo una working space un'area di lavoro locale un repository locale e da lì possiamo lavorare fare commit e fare push questi push andranno a finire nel nostro progetto a questo punto che a questo punto divergerà non sarà più identico a quello da cui abbiamo fatto fork ma prenderà una strada diversa ok? queste sono le prime volte ci siamo un po' spaesati ma sono i passaggi che impareremo a usare sempre ok? allora per fare cosa? per giocare su questo adesso lasciamo perdere per un attimo git e ritorniamo al nostro java effects e io vorrei iniziare insieme a voi questo esercizio semplice si chiama indovina numero il cui testo è qua l'ho pubblicato nel progetto sotto un paio di readme realizziamo un semplice programma java effects in grado di permettere all'utente di giocare a indovina il numero in ogni partita il programma deve inventare un numero casuale tra 1 e nmax estremi compresi e l'utente deve tentare di indovinare il numero segreto semplicissimo è un gioco che abbiamo fatto tutti a ogni tentativo il programma potrà rispondere in tre modi o il numero esatto o è troppo alto o troppo basso se il numero esatto ovviamente la partita termina l'utente ha un numero di tentativi limitato tmax per poter indovinare il numero segreto quindi deve indovinare entro 5 tentativi entro 7 entro 10 in ogni momento il programma visualizza il non scusate il numero di tentativi ancora disponibili quindi c'è ancora hai fatto tre tentativi rispetto ai 5 totali una partita può terminare o perché il numero è stato indovinato oppure perché sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili in questo caso quindi ho perso in questo caso il programma mostra il numero segreto era 74 al termine di una partita se ne può iniziare una nuova con un nuovo numero casuale semplice semplice allora cerchiamo di immaginarci un'applicazione grafica un programmino in cui fare queste cose che cosa dovremmo mettere sullo schermo cosa dobbiamo costruire nell'interfaccia allora innanzitutto abbiamo un concetto di partita la partita deve essere iniziata può terminare ne posso iniziare una nuova quindi dovrò avere una parte dell'interfaccia che mi permette di gestire la partita anche solo un bottone del tipo fai una nuova partita e poi parliamo di tentativi tentativi fatti dall'utente quindi l'utente deve poter inserire il numero e deve poter visualizzare quanti tentativi ha già fatto e infine il programma deve poter parlare all'utente dicendo troppo alto troppo basso eccetera eccetera però tutta questa parte relativa ai tentativi dovremmo fare in modo che sia attiva solamente se la partita è già iniziata e non è ancora completata cioè non posso fare un tentativo se non ho ancora fatto un'uomo partita oppure se ho già superato il numero di tentativi massimi oppure se ho già indovinato il numero quindi ho vari elementi che devono stare nell'interfaccia ma non tutti possono essere attivi in ogni momento se sono dentro una partita non potrò fare dei tentativi ma non potrò fare partita nuova perché devo prima finire quella attuale se invece la partita è finita o non è ancora iniziata potrò fare una partita potrò chiedere di fare una nuova partita ma non potrò fare dei tentativi perché il numero non è ancora stato pensato quindi in questo modo mi sono immaginato l'interfaccia allora qui ho creato già un progetto vuoto semplicemente per risparmiare un pochino di tempo ma non c'è ancora niente semplicemente ho fatto il new project da nuovo progetto di tipo java effects e proviamo a costruire l'interfaccia e poi ci agganceremo tramite il controller a questa interfaccia le variazioni l'algoritmo è molto semplice quindi una nota gli elementi di questo menu gluon che sono colorati in blu rispetto agli altri che sono colorati in nero non sono da usare ok perché se ne prendete qualcuno poi il vostro programma non funziona perché gluon è un'azienda che ha messo a disposizione lo sim builder vende un toolkit delle librerie per sviluppare applicazioni java effects su mobile su cellulare però servono delle librerie in più sulle quali funzionano questi componenti quindi la versione precedente fino all'anno scorso non c'era questo menu quindi non creava confusione adesso crea un po' confusione semplicemente fate attenzione che quando prendete un elemento lo prendiate da control o dagli altri menu e non da gluon ve la cogite dal colore purtroppo hanno lo stesso nome ad esempio che qua c'è un text field gluon text field che è diverso dal control text field ok non date la colpa a me ok allora dicevamo qua possiamo avere una semplice etichetta che faccia da titolo mettiamo nel solito top del border pane la chiamiamo indovina il numero la facciamo un po' più grande e così siamo contenti e poi dobbiamo io mi sto immaginando così due parti dell'interfaccia una che mi la parte più in alto che mi serve per far partire le partite e una parte più in basso che mi serve per giocare quindi mi immagino una vbox nel mio centro dentro le quali ci sono varie sezioni la prima sezione è l'inizio della partita quindi ci metto un bottone per iniziare la partita e poi magari ci metto degli elementi nei quali una cosa che devo fare è far vedere all'utente quanti tentativi già usato e quanti invece devo ancora usare quindi potrei avere due caselline di testo nelle quali nella prima c'è scritto i tentativi già fatti nell'altra ci sono i tentativi massimi totali e lo posso mettere a fianco nello stesso luogo quindi come primo elemento potrei disporre in orizzontale quindi con un hbox dentro la vbox tre elementi che sono un bottone di nuova partita e poi due caselle di testo che rappresentano il numero di tentativi dove è finita l'altra vieni qua che rappresenta il numero di tentativi adesso così ovviamente non si capisce nulla perché dobbiamo svincolare il layout per permettere agli elementi di avere lo spazio per poter essere visualizzati adesso qua non si capisce tanto cosa siano queste due caselle sono quelle nella quale mostro hai fatto due tentativi su dieci quindi per farlo capire meglio magari aggiungo due etichette una qua che chiamerò tentativi e un'altra in mezzo qua in cui metto semplicemente una sbarra e poi queste caselle magari le faccio un pochino più piccole quindi dico che normalmente dovranno avere non imposto l'ampiezza in pixel ma imposto il numero di colonne rispetto alle quali l'ampiezza sarà misurata quindi è facile dire vabbè sono numeri che saranno di due cifre e poi l'ampiezza se la calcola sulla base del font mettiamo un po' di margine come al solito 5 di margine 5 di spaziatura interna sia sulla vbox che sull'hbox e poi se vogliamo questa parte stacchiamoli un pochino quindi alla parola tentativi diamo anche un margine sinistro di 20 pixel così lo stacca un pochino si capisce che è una cosa diversa dal bottone ma qui sono questa è una prima parte dell'interfaccia nella quale gestiamo la nuova partita l'utente cliccherà su nuova partita per iniziare la partita nuova queste due caselle sono caselle nelle quali viene semplicemente visualizzato un valore quindi dobbiamo ricordarci di renderlo non modificabile dell'utente editable dobbiamo toglierlo su questa e sull'altra casella ok quindi facciamo un preview tanto per vedere come è la finestra fino a questo punto posso cliccare e qui sui tentativi non ci posso scrivere dentro se provo perché non è modificabile ok questa è la parte di avvio di una nuova partita poi ci sarà la parte in cui gioco allora questa è più semplice perché mi basterà una casella di testo in cui posso inserire il numero quindi lo faccio magari in un'altra H-box sottostante poi lasciamo questa così capiamo un po' di più che trascino qua sotto dove l'ho messa no così non riesco mai a beccare il punto giusto quindi e in questa H-box metteremo di nuovo magari una etichetta una casella di testo questa volta scrivibile no 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 infatti già ho preso quella sbagliata no questo via e un bottone che voglio mettere qua quindi l'etichetta leggerà tentativo due punti lui qua c'è la casella in cui lui potrà inserire il numero facciamo un pochino più piccola e poi il bottone siamo a prova anche qua sistemiamo un pelino il layout quindi 5 di margine 5 di spazio computer size per la dimensione dell'H-box questo invece è modificabile quindi nelle proprietà di questa casella di testo è modificabile magari lo mettiamo centrato H-box così e poi mi predispongo magari un'area di testo sotto in basso in cui il sistema può scrivere vari messaggi troppo alto troppo basso hai vinto hai perso eccetera non mi basta una riga sola perché se no lui magari non vede diventica i messaggi precedenti quindi mettiamo una piccola area di testo in cui poter contenere questi messaggi quindi è un text area che mettiamo dentro la V-box quindi va a finire sotto please sotto il resto quest'area di testo diciamo che potrà avere non so 40 colonne per 6 righe 5 forse 40 40 30 un po' di meno ok una cosa del genere non modificabile dell'utente quindi video eccola qua questa è la interfaccia nel suo complesso posso cliccare qua nuova partita qui inserirò un tentativo clicco su prova e lui mi dirà che è sbagliato è giusto eccetera ogni volta che inserisco un nuovo tentativo e qua sotto e qua sotto mi dirà se il tentativo è troppo alto troppo basso esatto ho finito i tentativi adesso però così l'interfaccia mi permetterebbe di premere questo bottone sempre o di premere questo bottone sempre in realtà noi sappiamo che il bottone prova ha senso premerlo così come inserire un numero come tentativo ha senso premerlo solo se la partita è già iniziata quindi devo fare in modo che questi elementi dell'interfaccia non siano tutti sempre abilitati ma li devo disabilitare quando voglio posso farlo perché ad esempio prendiamo il bottone nuova partita una volta che la partita è iniziata non devo più permettere di premerlo quindi devo disabilitarlo fino a quando la partita non termina o vincendo o perdendo e c'è la proprietà che si chiama disable nel bottone che se io seleziono il bottone vedete che è diventato un grigetto non più cliccabile tolgo il disable lui ritorna vivo quindi un bottone disabilitato se vado in preview non gli posso far nulla non lo posso toccare è lì semi nascosto non funzionale questa proprietà ovviamente io da java la posso settare set disable true e set disable false a piacere la stessa cosa per questa parte qui io in realtà dovrei disabilitare sia l'area di testo che il bottone ma è più comodo impostare la proprietà disable direttamente sull'hbox cioè sul box che contiene questi elementi disabilitando la quale vengono disabilitati in cascata tutti i nodi contenuti vediamo se è vero tac io sono dentro l'hbox adesso disabilito l'hbox in realtà l'hbox da sola non fa nulla non è quello di disabilitare semplicemente a cascata però questa proprietà di disabilitazione vale sui figli c'è anche scritto qua se non sbaglio nella documentazione definisce lo stato disabilitato o no di questo nodo settare disable a vero causerà questo nodo e tutti i suoi sottonodi li farà diventare disabilitati poi ti dice fai attenzione che se tu chiedi se un nodo è disabilitato o no potrebbe dirti che lui è abilitato ma c'è un nodo padre che lo disabilita e quindi questa informazione ma a noi non interessa perché noi sappiamo cosa abbiamo abilitato o disabilitato dice semplicemente che per fare un set è facile per fare un is non è così automatico quindi questo è lo stato iniziale della nostra interfaccia parte così col bottone nuova partita vivo e col resto morto disabilitato poi quando l'utente cliccherà su nuova partita dovremo disabilitare le bottone nuova partita e abilitare la parte di gioco ok fatemi salvare allora prima di poter procedere a questo punto alla parte java dobbiamo dare un nome dobbiamo collegare la parte di interfaccia alla parte di logica al controller per farlo dobbiamo fare due cose uno è dare un id un nome che verrà associato a una variabile java a tutti gli elementi di questa interfaccia che ci interessa poter vedere toccare modificare dal programma java allora questo bottone ci interessa sì perché dobbiamo poterlo abilitare o disabilitare normalmente il bottone non ci interessa perché non ci devo fare nulla col bottone ma in questo caso invece si deve abilitare o disabilitarlo quindi deve avere un nome deve avere un id quindi lo chiamiamolo button nuova btn nuova questo bottone però può anche generare degli eventi cioè quando viene cliccato e mi interessa intercettare questi eventi quindi la seconda cosa che devo fare è definire quali sono le azioni dell'utente che devo gestire quindi quali sono gli elementi che devo leggere modificare dal programma in questo caso devo definire un id quali sono uno due quali sono le azioni dell'utente che mi interessa dover gestire allora lo indico nelle azioni nel gestore di evento on action oppure on qualche cos'altro secondo l'azione dell'utente che mi interessa l'on action del bottone è ovviamente il clic in questo caso definisco un handler handle nuova e questo è il bottone poi di queste due caselle di testo mi serve ovviamente poterci scrivere dentro quindi le chiamerò txt current cur e txt max chiamo txt per ricordarmi che è una casella di testo current e max sono il numero corrente di tentativi già fatti dall'utente e max è il numero massimo di tentativi che l'utente può fare poi questa casella tentativo questa casella di testo mi serve per leggere il valore che l'utente c'è scritto c'è scritto quindi la chiamiamo txt tentativo e il bottone prova non ci devo far nulla sul bottone ma ovviamente lui dovrò intercettare l'evento di pressione del bottone quindi facciamo handle prova quindi un metodo che verrà chiamato quando l'utente clicca su prova la casella di testo c'è l'area di testo sottostante questa textarea anche questa ovviamente ci devo poter scrivere quindi la chiamo txt log dove ci sarà un log non una traccia delle azioni e mi serve ancora una cosa c'è questa hbox la seconda no scusate questa sotto la textarea me l'ha messa nell'hbox no è fuori ok questa hbox perché devo poterla abilitare o disabilitare quindi c'è un nodo un nodo di layout non mi interessa quasi per nulla ma in questo caso sì quindi dovendo da programma abilitare o disabilitare questa fascia della finestra mi serve un riferimento quindi il box box di gioco quindi riassumendo e l'ha riassunto cioè facciamo fare lo sim builder qua sotto abbiamo assegnato delle variabili per 1, 2, 3, 4, 5, 6 oggetti bottone nuova partita testo corrente testo massimo numero di tentativi box di gioco testo col tentativo testo con area di testo con il log delle azioni e poi avremo degli eventi gestiti che poi non mi fa vedere qua non mi fa vedere fatto questo posso salvarmi l'fxml e farmi generare uno scheletro di controller che poi andrò a completare scheletro di controller che definisce le varie text current text max box di gioco eccetera e mi definisce i due event handler vuoti quello per la nuova partita e quello per la prova al tentativo copio torno in Eclipse vado nel controller e ci incollo questo scheletro ricordiamoci sempre in Eclipse di ogni tanto aprire o tornare sul tab dell'fxml ogni volta che l'abbiamo modificato perché altrimenti Eclipse non se ne accorge visto che questo progetto era un progetto sotto version control sotto git vedete anche a fianco il segno di maggiore perché l'fxml e il controller sono stati modificati quindi adesso il programma sarebbe pronto per partire andiamo a vedere il main togliamo sempre se questi antipatici 400 che mi bloccano la dimensione della finestra ha un valore che non mi piace e quindi vediamo se parte eccolo qua ovviamente non fa nulla ma parte adesso dobbiamo insegnargli a fare qualcosa tutto il lavoro lo faremo dentro il controller dentro il quale dovremo gestire due cose l'algoritmo di gioco c'è il numero maggiore o minore indovinato o non indovinato e l'interfaccia utente abilita o disabilita fai vedere questo stampa quell'altro nascondi quel valore allora di base cosa fa questo su quali dati lavora io posso aggiungere tranquillamente delle variabili dentro la classe controller poi finito questo esercizio ragioneremo sul fatto che non è una buona idea e cercheremo di trovare una soluzione un pochino più robusta ma per ora l'esercizio è semplice semplice su quali dati deve lavorare questo programma deve lavorare essenzialmente su c'è due costanti innanzitutto numero massimo di tentativi e l'intervallo nel quale devono essere indovinati i numeri quindi che il testo chiamava già tmax private int nmax diciamo 100 e private int tmax quanti tentativi ci vogliono per indovinare un numero tra 1 e 100 in 2 ce la fate? no in 40 si è esagerato qual è il numero minimo per essere certi di indovinare un numero tra 1 e 100 di tentativi? che è 50 7 in 7 tentativi vi trovo un numero tra 1 e 100 in 10 tentativi vi trovo un numero tra 1 e 1000 basta ogni volta di mezzare il primo tentativo che fai è 50 se lui ti dice più basso vuol dire che da quel momento in avanti ti interessano solamente i numeri tra 1 e 49 se ti dice più alto ti interessano solamente i numeri tra 51 e 100 quindi tra 1 e 49 scegliere 25 o 26 se ti dice più alto vuol dire che ti servono i numeri tra 26 e 49 e quindi a ogni tentativo butti via metà dei numeri e quindi 100 dimezzato 7 volte arriva a 1 logaritmo in base 2 di 100 fa 6,9 8 qualcosa del genere perché 2 alla 7 fa 128 ok? se non ce la fai a indovinarlo in 7 tentativi non stai giocando bene ok? dopodiché queste sono costanti il programma indovinarà un numero segreto chiamiamo proprio segreto che è il numero da indovinare e l'utente avrà fatto un numero di tentativi tentativi già fatti partiamo così poi vediamo se ci serve altro questo è lo stato della partita cioè conoscendo queste variabili so a che punto è il gioco magari mi conviene aggiungere ancora una variabile booleana che chiamo on game che mi dice se c'è una partita in corso oppure no e quindi se non c'è una partita in corso il numero segreto il numero di tentativi non hanno senso però devo saperlo qualcuno me lo deve dire quindi lo stato del sistema lo stato del gioco lo stato del programma lo stato della partita è composto da queste 5 variabili di cui 2 sono costanti in questo caso poi non abbiamo solo lo stato del gioco da gestire avremo anche lo stato dell'interfaccia da gestire cosa c'è scritto dove e che cosa è abilitato ma quello è poi il lavoro di manovranza di mettere le cose in ordine questo è il gioco e io quindi parto con una partita non iniziata e la cosa che devo fare è permettere all'utente di iniziare una nuova partita quindi implemento il metodo handle nuova che è il metodo che viene chiamato quando l'utente clicca sul bottone nuova partita che è inizialmente abilitato allora cosa deve fare questo metodo beh essenzialmente deve inventare il numero casuale il segreto deve decidere qual è il numero segreto ogni nuova partita ci sarà uno diverso dunque noi possiamo usare mat.random mat.random ritorna un numero value positivo maggiore o uguale a 0 e minore strettamente di 1 ok a me serve un numero tra 1 e nmax e lui mi dà un valore tra 0 e 1 vabbè moltiplico allora mat.random per nmax mi dà un valore double compreso tra 0 compreso e 100 escluso quindi 99,9 io questo lo posso troncare intero e quindi avrò un numero intero tra 0 compreso e 99 compreso 100 escluso perché random non vale mai 1.0 sempre qualcosa di meno a me servono tra 1 e 100 non tra 0 e 99 e vabbè ci aggiungiamo 1 ok quindi l'intelligenza del gioco indovina pensa un numero da indovinare e poi inizializza la partita inizializzare lo stato della partita significa che i tentativi li mettiamo a 0 tentativi già fatti in game diventa vero e a questo punto la partita è iniziata so quale numero dovinare so quanti tentativi ha già fatto nessuno e ti dico che la partita è iniziata ovviamente il fatto che in game diventi true e i tentativi sia a 0 l'utente non lo vede poverino lui vede l'interfaccia quindi devo riflettere sull'interfaccia queste informazioni quindi l'interfaccia cosa devo fare ce l'ho qua dovrò disabilitare questo bottone perché sono in game e quindi la nuova partita non serve devo abilitare questi elementi la box e devo scrivere qua 0 e qua 7 0 tentativi 0 su 7 vabbè uno dopo l'altro si fanno allora disabilitare il bottone nuova button nuova set disable true abilitare la box di gioco box gioco set disable false qui è un po' strano perché metti true se lo disabiliti e false se lo vuoi abilitare perché senti il disabled non senti l'enabled quindi c'è una doppia negazione basta solo non confondersi quindi disable false vuol dire sì lo voglio poi abbiamo detto devo mettere 0 su 7 nei numerini là sopra allora i numerini sono text current set text imposto la proprietà text del bottone come? beh col valore di tentativi che però attenzione che è un intero a me serve una stringa quindi ad esempio posso fare string.format come un numero intero di tentativi e idem ops la stessa cosa la farò sul mac text come si chiamava l'altro max salviamo proviamo a testarlo questa parte qua non è mai troppo presto per fare run non trovatevi a scrivere per un'ora e poi dopo cominciare a far run dopo e scoprite che avete 12 milioni di errori gli errori ci sono li scopriamo un po' per volta li facciamo un po' per volta li troviamo un po' per volta allora qui è lo stato iniziale clicco su nuova partita tentativi 0 su 7 ovviamente questo numero non lo posso modificare tentativo posso scrivere 4 e mi fa premere prova ovviamente non fa nulla perché l'altra metà del programma non c'è ancora il gestore dell'evento prova non l'ho ancora fatto però effettivamente ho disabilitato questo e ho riabilitato questo quindi finora sembra funzionare a questo punto proviamo a gestire invece il tentativo dell'utente questo metodo è un po' più complicato perché possono succedere tante cose può succedere che l'utente abbia inserito un valore sballato non ha inserito nulla ha inserito una lettera ha inserito un numero minore di 1 maggiore di 100 quindi c'è una serie di controlli che dobbiamo fare se ha inserito un valore sballato oppure ha inserito un valore esatto ha indovinato e allora devo terminare la partita oppure ha inserito un valore sbagliato allora devo dirgli se è troppo basso o troppo alto e se per caso era l'ultimo tentativo ha perso se all'ultimo tentativo non ha ancora indovinato ha perso quindi po' per volta dobbiamo gestirci questi casi prima cosa dobbiamo estrarre il numero che l'utente ha scritto la casella di testo è una casella di testo quindi mi dà una stringa non mi dà un numero quindi devo estrarre la stringa verificare che ci sia scritto qualcosa dentro e convertirlo in numero quindi string num fatemi chiamare num s per ricordarmi numero sotto forma di stringa uguale txt tentativo punto get text questo è ciò che l'utente ha scritto nella casella di testo verifichiamo se ha scritto qualcosa if num s length uguale 0 non va bene allora cosa faccio se lui non ha scritto nulla glielo dico txt log append text aggiungi sotto nella finestra della di log un messaggio del tipo devi no devi inserire un numero a capo barra n e poi che faccio basta esco esco da cosa dal gestore di evento non faccio più nient'altro lui ha cliccato quello si è meritato un messaggio di errore bo return esce non dal programma esce dal gestore dell'evento quindi tutto ciò che dovevo fare per gestire questa pressione del bottone prova l'ho fatto quindi vediamo se è vero rieseguiamo il programma nuova partita non scrivo nulla qua dentro clicco su prova e mi dice devi inserire un numero insisto e mi lo ridice vediamo chi ha la testa più dura lui poi quando invece dovessi inserire un numero vabbè non mi dà più il messaggio poi non fa nulla perché manca ancora un pezzo di programma quindi finora ha verificato che io abbia effettivamente inserito qualcosa questo qualcosa sarà un numero come faccio a convertire una stringa in numero parse int ok quindi int num uguale integer punto parse int di num s allora possono capitare due cose o il parse int funziona cioè trova un numero e mi restituisce la variabile numerica la variabile intera oppure dentro quella stringa non c'è un numero l'utente ha scritto delle parole delle lettere dei simboli che non doveva scrivere e allora parse int genera un'eccezione quale eccezione? number format exception quindi se noi vogliamo se noi facessimo usassimo il programma così succederebbe una cosa brutta perché se l'utente inserisce 5 va avanti se l'utente inserisce Q il programma spara un'eccezione sulla console o su video eccetera poi il programma va avanti qui è diverso dai programmi a livello console che facevamo in cui l'eccezione interminava il programma questa eccezione avviene nel thread grafico del gestore dell'evento quella eccezione uccide solamente quella funzione ma l'interfaccia utente continua ad andare avanti però noi comunque non vogliamo le eccezioni così un programma che funziona è un programma che non genera eccezioni quindi eccezioni sappiamo che possono capitare le dobbiamo catturare e gestire come? beh ovviamente con i try catch number format exception si chiamava? sì quindi se arrivo qua il numero era un intero e qua ci farò il resto del lavoro nel caso in cui non abbia generato un'eccezione altrimenti se ha generato un'eccezione dovrò dire all'utente no guarda non va bene append text il dato inserito non è numerico e riusciamo sto creando un percorso ostacoli no? se sbagli qualcosa sei fuori solo se riesci a superare tutti i vari ostacoli vuol dire che il dato ce l'hai ed è buono facciamo solo una prova di questo di questo try catch 5 non fa nulla Q il dato non è numerico anche se si spazia spazio 55 gli spazi non gli piacciono non ci vogliono eccetera e non dà eccezioni ma segnala all'utente cosa è successo senza perdere il numero di tentativi ok? cosa vuoi provare? un trim si può mettere sì sì qua prima di testare la lunghezza della stringa potrei mettere un trim per togliere gli spazi davanti e dietro certo dipende da qual è il tipo di input che vogliamo dall'utente ok adesso faccio un commit un push in modo che voi possiate vedere sul tdp questo progetto e lo continuiamo domani pomeriggio con la lunghezza un pulso di fare un pulso di fare un pulso Grazie.